Stadio Massimino di Catania, c'è il sole finalmente, una giornata che segue la grande pioggia di ieri vuole il sole soprattutto questa sera il Catania che contro il Cagliari che gioca per la statistica ha solo una scelta possibile, vincere Ripartenza, sono in 4 contro 4, può andare richiuti, si allarga Berghesio, in mezzo stringe Lopez Berghesio, sinistro, dentro Lopez, secondo palo, manca l'impatto col pallone a incrociare C'è Berghesio pronto, largo per Capuano, bella apertura sulla sinistra, il cross dentro per Lopez il controllo si gira, Lopez, il miracolo di Agassi Un rimpallo, poi richiuti, va dentro Lopez, lo serve richiuti, Lopez l'affonda, il sinistro dentro per Lopez cavalcato e poi il recupero miracoloso Ancora Catania, ci prova, Lopez difende col corpo, si gira, Maxi Lopez in aria, giù si lascia giocare, intervento di Astori pulito, vantaggio del Catania, Berghesio gira ancora dentro per il colpo di testa di Gomez e Cagliari che si difugge in angolo Parte la parabola, sul secondo palo, taglia tutta l'area, attenzione, acqua fresca che sbaglia incredibilmente col sinistro, a porta praticamente sguardita Contropiede, va via Kossu, c'è spazio, il destro con l'esterno per aprire lateralmente il tiro Altro pallone buttato via, altra posizione favorevole Largo a cercare Kossu, è velocissimo Kossu, prende in velocità il Vares che lo mette giù Attenzione, calcio di punizione e qui ci sta il rosso perché Kossu aveva decisamente puntato a rete Pala sul secondo palo, colpo di testa, Gazzi e poi gol, Silvestre, sotto misura, ribadisce in rete Catania in vantaggio, in inferiorità numerica Sì, qui è stato bravissimo, è stata la prima occasione, credo, su Berghesio, di testa a Gazzi ma dopo non ha potuto niente, insomma, su Silvestre Schelotto, te che è scivolato, ruba palla, va via, ruba anche il tempo ad Agostini poi pallone messo in mezzo per orizzontale Attenzione, Lodi, cosa ha sbagliato? E poi Berghesio, che dà ragione a Simeone 2-0, Berghesio, aveva sbagliato Lodi a due passi ma non ha sbagliato l'argentino Grazie